Una lettera al provveditorato sottoscritta da tutti i sindaci della Valle dove chiediamo con forza ancora di più che venga rispettata la legge. Ovvero il riconoscimento di 5 classi per l'istituto comprensivo della Valstagna con una prima media da 14 alunni, il minimo richiesto è 10 studenti. L'intero consiglio comunale e la comunità tutta fanno quadrato e non mollano perché hanno la legge dalla loro e perché il venir meno di classi scolastiche segna la perdita di famiglie e con esse la morte, lenta ma inesorabile, dei paesi. Per non parlare dei grandi investimenti fatti da sempre per mantenere gli istituti. Investiamo moltissimi soldi sulle scuole da almeno 20 anni e poi ci ritroviamo ogni 2-3 anni ad avere questi problemi. La legge ci dà ragione sui numeri, non capisco perché si voglia fare questo. A scadenza quasi regolare è una minaccia che incombe su questi comuni. La causa è la mancanza di docenti, un problema che versa su tutto il patrimonio formativo della Regione Veneto e che da queste parti ha un peso ancora più grave. Siamo pronti a battagliare, eventualmente anche a fare i corsi se eventualmente dovesse essere negativa.